Ciao a tutti, nel video di oggi, il piccolo Leo, saluta la sorellina prima di andare a scuola, dandole un bacino. Poi, Fedez si rilassa sul divano, e annuncia l'uscita del videoclip della sua nuova canzone. Vi lascio al video, buona visione. 10, mancano 10 minuti, è online il video di Medio del Cinema, il video più bello che abbia mai fatto. Preparatevi, non lo sto vendendo bene, però ok. Ragazzi, stavo leggendo i commenti ed effettivamente ci siamo bruciati il finale. Dovevo limonare col Masseo alla fine del video. Vabbè, recuperiamo Masseo, recuperiamo. Grazie al Masseo, grazie a Bagolin, video pazzesco. Il miglior commento per ora a mani basse è rispondo a quei birichini versione family friendly per leone. Cavoli raga, mi ero quasi dimenticato, domenica torno su Rai 3. Ragazzi, oggi alle 5 e un quarto su Rai 2, c'è il nuovo talent show del mio glamour artist Manu, in cui lui fa il giudice. Non perdetevelo, si chiama Missione Beauty. Guardatevi! 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 Guardatevi anche a me. Oh, I'm gonna miss this room so much! Thank you. Crayon per tutto Grazie per la visione